PEGI 18 Quando la città ha iniziato a crollare, un rato oscuro dell'umanità ha preso il controllo delle strade. La città è andata in pezzi. Ormai regna il caos. Ognuno pensa a se stesso. Vige la legge del più forte in questo mondo devi prenderti ciò che ti serve. Ora questo mondo è il nostro territorio e nessuno può fermarci. Siamo evasi dal carcere di Rikers Island e non intendiamo tornare in quella gabbia. È tutto nostro ora. Noi siamo i nuovi padroni della città. Le strade devono essere purificate. Per salvare la nostra città dobbiamo bruciare il morbo. Ogni possibile traccia. Solo grazie al potere del fuoco potremo essere liberi. La libertà non è un diritto. Nessuno ti regala la libertà. Alla città serve una forza in grado di riportare l'ordine e annientare ogni resistenza. è l'unica soluzione. Questa non è la nostra soluzione. Il nostro obiettivo è difendere ciò che resta per salvare ciò che rimane della città. Noi siamo The Division. Noi siamo The Division.